Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning come potete vedere la mia macchina è sozzissima però non ci posso fare niente perché in questi giorni piove e basta e quindi come vi avevo detto nel video precedente vi porto anche il video su come rimuovere il freggio posteriore e quindi come l'altra volta ciò che ci serve Fon e Cacciavidi Sigla e cominciamo subito Scaldiamo come sempre la parte Una volta scaldata bene la parte a differenza del video scorso questa volta bucheremo al centro dello stemma prima con un taglierino qui ci sono ed ecco fatto bene ragazzi per questo video vi saluto ricordatevi di lasciare un bel like e commentate se avete bisogno e soprattutto iscrivetevi al canale ciao a tutti ragazzi